Le marche vestono, calzano la moda e la creano. I prestigiosi brands marchigiani sono ormai gli oggetti cult di uno stile che non teme il paragone. Al primo posto in Italia per numero di imprese nel settore delle calzature, una filiera tutto tondo che trasforma le pelli, le disegna, le produce nel rispetto di alti parametri tecnologici. Marche, sempre un passo avanti per far camminare il mondo con uno stile che si riconosce. Non solo calzature, anche tessile, abbigliamento, maglieria, accessori, cappelli, jeans e lingerie.